Paolo Luca Donati, ovunque tu sia. Se non ti cerco, non è per orgoglio, se non ti cerco è perché non ho da darti ciò che vuoi, ciò che tu vuoi, ciò che tu ora vuoi da me. Ma ovunque tu sia e ovunque io sia, lascerò la porta socchiusa e una luce alla finestra, se mi cercherai e mi troverai, non dovrai dir niente, solo chiudere la porta e spegnere la luce.